Appena insediato mi sono attivato in rapporto con le regioni per sbloccare i fondi che sono necessari ad avviare un percorso di politiche attive che tra l'altro vedrà nei prossimi mesi un grandissimo investimento perché dopo queste risorse ne arriveranno delle altre, complessivamente quasi 5 miliardi di investimento sulle politiche attive, cioè sul sostegno a chi cerca lavoro, a chi si deve formare, a chi deve difendere il lavoro. Credo che sia il modo migliore di affrontare la crisi, i danni, le difficoltà che la pandemia ha prodotto e anche il modo migliore di dare una risposta all'esigenza di innovazione e di competitività del Paese. Il decreto di localizzazione è così importante per tante aziende e soprattutto per quanto ci riguarda la GKN, a che punto siamo? C'è un confronto tecnico aperto col Ministero dello Sviluppo Economico, stiamo approfondendo tutti gli aspetti e credo che arriveremo rapidamente ad una sintesi.